Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Un giorno felice. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Una bella scampagnata è l'ideale per passare una bella giornata ricca di fascine e di splendore nei boschi e quindi tra la freschezza dei fiori, la bellezza degli alberi che sovrastano il bosco, le chiome fiorite degli alberi e quelle belle radure alla riva dei laghi che ci incantano per il loro stile naturale intenso. Quindi un giorno felice ci può donare armonia se vissuto tra la natura. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Un giorno felice. Una bella scampagnata è l'ideale per passare una degna giornata ricca di fascine e splendore tra i boschi fioriti e le belle radure alla riva dei laghi con le belle persone gioiose. Un giorno felice vi doni armonia, vi renda la vita gioiosa e vi infonda pace e cordialità. Un giorno felice per stemperare il forte tono lavorativo tale da far vivere e suscitare un divino senso sacro e rigenerativo. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.